Tu sei nato in Italia? Sono nato in Italia, sì. Nato e cresciuto in Italia? Senza cittadinanza. Romano di Roma? Romano di Roma, sì, sì. Vabbè, sei pronto a dimostrare quanto sei italiano? Aie! Eh, raccontaci una partelletta. Ci sono un terrone, un nero e un leghista che sono neopatri e si trovano in sala d'attesa mentre le mogli stanno partendo. A un certo punto esce l'ostetrica tutta agitata e fa, oddio, oddio, abbiamo mischiato i vostri bambini che sono nati tutti alla stessa ora. Il leghista va nel panico, entra dentro la sala operatoria, afferra il bambino nero, esce fuori, si guarda tutti e fa Fermi tutti! Finché non esce il terrone, questo nero, mo vengo io! Ecco, bene! Grazie a tutti! Grazie a tutti!